Buongiorno, sono Filippo Gambari, sono il direttore del Museo delle Civiltà, il grande museo nazionale che fonde insieme le collezioni del Museo Preistorico e Etnografico Luigi Pigorini, del Museo d'Arte e Tradizioni e Popolari Lamberto Loria, del Museo dell'Alto Medioevo Alessandra Vaccaro e del Museo d'Arte Orientale Giuseppe Tucci, oltre che dell'Istituendo Museo Italo-Africano. Siamo in cima alla gradinata d'ingresso del Palazzo delle Scienze e abbiamo di fronte la straordinaria vetrata di Giulio Rosso con le Costellazioni. Proprio in questo angolo speciale del museo noi abbiamo allestito una mostra che in mezzo tra l'ingresso delle collezioni etnografiche di America e di Africa vuole ricordare il commercio triangolare, il Middle Passage, la tratta degli schiavi africani dall'Africa all'America. In questo momento il museo è chiuso per il contagio del coronavirus e quindi in questo momento noi non riusciamo a comunicare questa nostra mostra alle scuole cui era particolarmente indirizzata. Quindi cogliamo l'occasione per creare questo supporto informatico per rendere questa mostra conosciuta al di là dei limiti dell'attuale visibilità del museo. E' importante perché per la prima volta vengono messi in mosca degli oggetti che non hanno un valore artistico ma hanno un enorme e straordinario valore simbolico e documentario che erano rimasti a lungo nei magazzini della sezione etnografica del museo Pigorini. Che cos'è il Middle Passage? Che cos'è questo commercio triangolare? L'esplorazione dell'Africa comincia nel XV secolo proprio con le grandi scoperte portoghesi, con le grandi spedizioni fatte sotto Enrico il Navigatore. Le caravelle, questa invenzione portoghese, incominciano a esplorare l'Oceano Atlantico cercando di ripercorrere la strada che avevano tentato senza successo le galèe genovesi nel Trecento. Le caravelle più adatte alla navigazione atlantica riescono a doppiare il capo Bochador, riescono a raggiungere non solo le azzorre, non solo il capo verde, ma il golfo di Guinea e poi si arriverà addirittura alla circonnavigazione dell'Africa. Una delle prime attività che i portoghesi lanciano è proprio il fatto di andare a raccogliere sulle coste africane quegli schiavi neri che erano arrivati in piccola quantità in Spagna e Portogallo attraverso il commercio arabo. Ed è proprio l'8 agosto del 1444 che a Lagos, il porto, nel sud del Portogallo, avviene la prima asta di schiavi prelevati proprio dall'attuale Senegal e trasportati in Portogallo per la vendita. Se inizialmente saranno i portoghesi ad avere il monopolio di questo traffico, anche perché nel 1452 una bolla papale di Papa Niccolò V da mandato ai portoghesi di attribuirsi queste conquiste territoriali e di tranquillamente sottomettere e sfruttare anche come gli schiavi gli indigeni, ben presto questo traffico entrerà in un grande sviluppo in cui i veri attori saranno inglesi, francesi, olandesi e dal 1640 in poi che saranno loro i principali attori soprattutto nel confronto proprio del commercio verso le Americhe. Dal 1640 a circa il 1860 si svilupperà questo traffico che sarà chiamato commercio triangolare perché funzionava prelevando schiavi in Africa, portandoli in America, prelevando in America materie prime, tabacco, cotone che venivano portati in Inghilterra e in Europa, su cui a questo punto si caricavano altri oggetti come armi, come perle di vetro, altri materiali che venivano a loro volta commerciati in Africa. Da qui il nome di commercio triangolare e da qui l'idea di questo commercio molto redditizio che però porterà in poco più di due secoli, grossomodo fra il 1640 e grossomodo al 1860, porterà alla deportazione di circa poco meno di 12 milioni di schiavi neri dall'Africa. Va anche detto che questi 12 milioni sono quelli che arrivano in America, molti di loro muoiono durante il viaggio, molti di loro muoiono al momento della cattura, per le guerre, per le attività di razzia che portavano alla cattura di schiavi, quindi si può immaginare che in quei secoli l'Africa sia stata spopolata di non meno di 20-30 milioni di individui. L'oggetto che vedete raffigurato è un oggetto estremamente raro perché sono pochi gli esemplari originali del XIX secolo conservati nei musei occidentali e ancor meno in Africa di questa tipologia di oggetti. Si tratta tecnicamente di una gorea, cioè di un gioco per poter tenere gli schiavi a due a due in fila indiana nei passaggi dell'entroterra per arrivare alla fine ai porti sulla costa dove venivano caricate sulle navi negriere. Vedete questo elemento che veniva giuntato con un altro elemento analogo in modo da mettere due persone tenute per il collo, nei punti intermedi venivano legati i bambini che viaggiavano in mezzo a loro. Quando si arrivava un momento di sosta si dividevano le due persone lasciando sulla persona più adulta il legato, il gioco che rendeva impossibili i movimenti e la fuga. Nel caso specifico voi vedete che non è fermato da elementi metallici e anche il buco del gioco è relativamente piccolo, infatti questo è specificamente destinato a giovani donne che non dovevano essere rovinate dal punto di vista del concetto di merce da macchie sulla pelle o segni deturpanti sul collo, sul corpo e quindi venivano legate con elementi di fibra. L'oggetto proviene dalla zona del Congo ed è estremamente interessante nella sua testimonianza drammatica. Prende poi il nome di Gorea per un motivo abbastanza curioso. Arrivando sui porti della costa ricordiamoci che il commercio triangolare funzionava proprio prelevando gli schiavi in porti come il porto dell'isola di Goree, appunto, che era la base fondamentale della compagnia olandese delle Indie, ma anche i porti dell'attuale Ghana come Accra, Cape Coast, o i porti dell'Angola come Luanda. Ebbene, in questi porti gli schiavi venivano caricati con ceppi metallici sulle navi negriere, quindi nell'isola di Goree venivano abbandonati una grande quantità di questi elementi che venivano a formare delle cataste per cui gli occidentali, in particolar modo gli inglesi e gli olandesi che li vedevano lì accatastati, hanno dato il nome di Goree a questo tipo di elemento che in francese era abitualmente chiamato Kang. Questo gioco per schiavi ha sostanzialmente lo stesso scopo della Goree che abbiamo visto prima, ma in realtà serve quando gli schiavi potevano camminare in file più larghe, quindi in tratti aperti, in savane aperte. Ancora una volta si tratta di mettere in fila gli schiavi a gruppi di due o tre legati insieme da questo bastone al collo e collegati da una lunga corda o catena che metteva insieme più giochi in senso verticale. Gli schiavi anche in questo caso erano legati soprattutto con fibre, quindi si tratta presumibilmente di giovani e ragazze. La schiavitù in Africa non l'hanno portata gli occidentali e neanche gli arabi. Era tradizionale nel tipo di società che si costituisce soprattutto in Africa orientale nel periodo corrispondente al nostro Medioevo. Diversi regni basavano la loro attività sull'attività di guerra e sull'acquisto di schiavi. Saranno gli arabi e poi gli occidentali a fornire non solo uno sbocco, ma anche in realtà un incremento e un incentivo proprio a questa attività. Tra le immagini guerriere di questi gruppi dell'Africa occidentale finisce a colpire molto l'immaginario collettivo l'idea delle donne guerriere del Daomei, corrispondente all'attuale Benin. In questo caso queste donne guerriere che vengono anche un po' esageratamente presentate all'immaginario europeo, vengono caratterizzate anche da alcuni oggetti come questo olifante, questo corno da guerra ricavato da una zanna d'elefante e ornato con mandibole umane, in teoria impregnate del sangue dei nemici uccisi. In realtà proprio dall'analisi di dettaglio si vede che il materiale che impregna questo corno contiene dei gusci d'uovo, quindi si tratta probabilmente di materiale in cui prevale l'utilizzo di uova di uccelli. L'oggetto è dell'Ottocento ed è caratteristico di questa immagine fortemente e orribilmente guerriera dei regni dell'Africa occidentale. Tra gli altri strumenti di costrizione degli schiavi, soprattutto nel trasporto, nella sosta, c'erano dei ceppi in ferro che venivano utilizzati soprattutto per i giovani maschi, legandoli alla caviglia a due a due in modo tale da rendere quasi impossibile la fuga. Per le donne, lo vediamo dalla dimensione dei polsi relativamente piccoli, poteva bastare anche solo un ceppo di legno che bloccasse le due mani in modo tale che non potessero utilizzare le mani per liberarsi da corde o da altri elementi che le trattenevano. Ancora una volta si tratta di oggetti assolutamente autentici che nella loro testimonianza ci rimandano direttamente alla violenza che veniva fatta contro queste persone e ci fanno riflettere su come si sia trattato di una pratica prevalentemente crudele e con effetti terribili su tanta parte della popolazione nera. Questi ceppi in ferro, utilizzati sia per le gare sulle navi che per i trasporti via terra, sono tutti autentici e sono stati così accumulati per dare un'idea della quantità di questi oggetti che venivano prodotti, questi sono soprattutto della fine dell'Ottocento e dei primi anni del Novecento e danno anche un simbolo perché questi ceppi sono accumulati ma danno l'idea della fine della schiavitù. La fine della tratta si imporrà inizialmente con l'abolizione della tratta degli schiavi da parte del Regno Unito poco prima della rivoluzione francese, verso la fine del Settecento, le prime leggi che nel 1807 permetteranno all'Inghilterra di bloccare le navi negriere degli altri paesi e alla fine dopo il 1867 con l'abolizione della schiavitù in America settentrionale. In realtà però la schiavitù sarà un elemento duro a morire, quindi vedere queste catene accumulate ci vuole anche un po' simboleggiare l'idea di come bisogna liberare il mondo dalla schiavitù e dalle catene. Come venivano pagati gli schiavi? Erano molti gli strumenti di pagamento che volgevano il ruolo di denaro. A parte beni di consumo come il sale, potevano certamente essere usate conchiglie, pesi di bronzo e anche piccole quantità di polvere d'oro che veniva appunto pesata con alcuni dei pesi miniaturistici che voi vedete. Ma un oggetto che si usava molto spesso erano proprio le perline di veco decorate, il che rendeva abbastanza facile ai commercianti provenienti dall'Europa acquistare gli schiavi scambiandoli con oggetti che nel mercato europeo avevano un valore molto basso. La grande massa di persone che viene a essere allontanata dal suo paese messa in condizioni di vita terribili e quindi annientata sul piano culturale, sul piano sociale, cerca comunque di mantenere una parte delle credenze, delle tradizioni. Così noi vediamo questi sincretismi che ancora oggi creano dei collegamenti tra figure che sono ancora oggetto di culto, per esempio questa mamigliata che è oggetto di culto in particolar modo in Costa d'Avorio, Dea delle Acque e quindi particolarmente importante per chi doveva sopravvivere a un viaggio così terribile in mezzo all'oceano, ebbene questa Dea è uno degli esempi che poi ritroviamo trasferito proprio in America, in particolar modo in Brasile, in una divinità che interpreta la stessa tradizione con sincretismi particolari. Vediamo infatti la figura di Yemanjá in Brasile che di nuovo prende proprio l'immagine della divinità delle acque dell'Africa occidentale e che ancora oggi è oggetto di culto. abbiamo riprodotto qua degli esempi di offerte che vengono praticate ancora oggi in Brasile a questa figura. La tratta degli schiavi fu un fenomeno orrendo e fu capito nella sua drammaticità già dagli stessi contemporanei. abbiamo visto che inizialmente la Chiesa con la bolla cum diversas di Niccolò V autorizza i portoghesi a questa pratica, ma già nel Cinquecento Paolo III Farnese blocca l'estensione della pratica della schiavitù nelle Americhe combinando la scomunica proprio a chi sfruttava gli indigeni dell'America facendo gli schiavi e li depredava dei loro beni. In realtà questa bolla che aveva effetto solo nei confronti dei paesi cattolici limitò soltanto in piccole dosi la rapacità delle colonizzazioni spagnole in America. Ma era un primo segnale di una reazione. In realtà nel Seicento, nel Settecento il traffico negrero fiorì in maniera assolutamente esponenziale e ci furono momenti particolari di pentimenti anche etici. Il caso più noto è quello di John Newton, che era stato lui stesso schiavo per debiti e aveva navigato su una nave negriera, si convertirà alla chiesa anglicana e sarà fra i promotori più tenaci della legge per l'abolizione della schiavitù alla fine del Settecento. John Newton c'è noto soprattutto per aver composto un inno che ancora oggi viene suonato moltissimo nei riti protestanti, ma è noto a tutti, Amazing Grace, che è una bellissima musica che vuole ricordare lo stupore della grazia che l'aveva colpito permettendogli di uscire da qualcosa che lui stesso sentiva come particolarmente degradante e riprovevole. Allora, parliamo della tratta soltanto al passato? No, purtroppo no. Non solo la schiavitù è una pratica dura a morire. Consideriamo che in alcuni paesi come la Mauritania la legge di abolizione della schiavitù è arrivata soltanto negli anni Ottanta del Novecento, ma in realtà questa pratica ancora sussiste. Molti migranti sono ridotti in schiavitù in Africa, molti migranti finiscono per essere nel nostro paese utilizzati con forme di caporalato che in realtà si avvicinano a certe pratiche e a certi concetti della tratta dei secoli passati. Quindi riflettere su cosa è stato questo fenomeno, riflettere su come la cultura europea deve oggi recuperare questi modelli di contrasto alla messa in schiavitù, recuperare una cultura giuridica, una cultura etica che impedisca il ripetersi di fenomeni simili, è uno degli elementi che permette in qualche modo di paragonare la tratta degli schiavi a quello che è stato l'Olocausto nel Novecento. Speriamo che nel suo piccolo anche questa mostra dia un contributo per permettere di riflettere e pensare perché queste cose non si ripetano mai più. Grazie a tutti.